Ciao creatura, benvenuta in questo mio nuovo video ASMR, io sono Ecate Splendente e oggi ti porto a visitare il mercatino dell'artigianato di Piazzolo sul Brenta in provincia di Padova che si tiene ogni ultima domenica del mese. Spero che questo video ti piaccia e buona visione, un po' relax. Allora, sono 800 espositori e ho provato a fare le quadrature un po' come mi avevi chiesto, un po' di primi piani sugli oggetti, primi piani tra virgolette, e un po' anche di panoramica e cercherò di commentare quello che ho ripreso e anche ho fatto delle passeggiate, diciamo così, tra la folla. Quindi ho cercato di accontentare un po' tutte le richieste che mi sono state scritte nei commenti del video precedente in cui esponevo la mia idea su questi video rilassanti ai mercatini, qui possiamo vedere, racconto un po' insomma ciò che ho visto e ciò che si vede, le cose che mi hanno incuriosito, tipo questa sella, poi le bici, mi piacciono, mi piace tutto in realtà, però ho cercato di inquadrare le cose che mi attiravano di più, tipo questo gioco dell'oca antico che sarebbe stato fighissimo comprare e appendere in casa, secondo me, si intravedono un po' di miei capelli. Ah, poi qua c'era un signore, un artista, di quelli che mi hanno dato un soldino, allora è venuto a darci il 5, e sono quelli che fanno le statue praticamente, poi ho detto è verde quindi, cioè voglio dire, e allora l'ho ripreso, noi ogni persona, artista, diamo un soldino perché, cioè, sono troppo bravi, c'è quelli bravi ovviamente, quelli che mi piacciono, tipo questo che uno era tutto verde in più, faceva la statue ed era fantastico, bravissimo, stava fermo immobile, qua ho cambiato ripresa perché mi passavano tutti davanti, ma poi, lo stesso, ho avuto persone che mi passavano davanti, comunque si capisce che genere di artista, eh, erano anche troppo simpatico, a chi davi, se mi davi un soldino, lui veniva a dati il 5, oppure faceva altro, si muoveva, insomma, qua, mi sono accorta poi in fase di editing che ho ripreso un sacco di cose, tipo macchine da scrivere, e grammofoni, o giradischi, ma comunque, vabbè, oh, si vede che domenica mi attiravano quelli, poi c'era questa chitarra super bella, tutta, con il tipo di coupage, con, attaccato tutti, c'erano anche le sete e altri mobili fatti così, con tutti i fumetti e pezzi di giornale, cioè, wow, fighissimo, che lavoro, cioè, anche l'idea è bellissima, mi piace un sacco, poi qua, eh, spesso non guardiamo neanche tanto, si dice, bisognava schivare le persone, davvero, eh, però, vabbè, è tutta challenge per me che ho l'ansia, e quindi, poi c'era una bella giornata, guarda, non c'era pure una nuvola in cielo, pauli, io riprendo sempre, adoro i pauli, sì, sai quelle cose che ti attirano, che le, cioè, più forti di te, ma catturano il tuo sguardo più di altre cose, ecco, pauli, grammofoni, cose, strumenti musicali, o c'era mio padre che diceva, riprendi anche la villa che c'è lì, perché è bellissimo, è altosissimo, dopo quando ci avviciniamo faccio una bella ripresa creatura, io ho provato a fare una ripresa bella, solo che nemmeno già come è venuta, vabbè, dettagli, e qui non guardiamo quasi mai perché ci sono praticamente solo mobili, e dato che al momento non ho interesse di comprare mobili, non guardiamo neanche le pancherelle, anche perché altrimenti dovremmo starci tantissimo, molto di più di quanto ci stiamo solitamente a questo mercatino, però noi sappiamo già dove andare a vedere, le cose che ci interessano, e comunque, in questa piazza, prevalentemente, ci sono pancherelle con mobili, poi ho fatto una ripresa della villa, non mi ricordo il nome della villa, porto a pazienza, poi c'era anche un gruppo lì che suonava, ma lo vedremo più in più là, adesso qui c'è la villa, una ripresa fatta a caso, con lo copro, quindi immagino poi, di là ci sono ancora un miliardo di pancherelle, a 800 in tutto, però guarda che sole, guarda che cielo, mamma mia, una giornata bellissima, poi qui mi sono avvicinata per ascoltare il gruppo, e un vecchiotto mi ha attaccato una mega pezza, mi ha raccontato la storia della sua vita, vabbè, ti risparmio quel pezzo, poi qui procediamo, e c'era un altro musicista, con quello strumento di cui non ricordo il nome, non lo so proprio, lo adoro, il pezzo originale di questo video, dove si sente la musica, lo metterò su Instagram, se sei interessata, creatura, ecco, te splendente, mi trovi su Instagram, per vedere questo pezzo di video, perché l'ho tolto, se no non era ASMRissimo, con la gente che faceva casino, poi anche un voto di fissormoni, che ho ripreso, a queste macchine fotografiche antiche, sono bellissime, poi qui c'è passeggiata tra la folla, giustamente, sì, poi mi piacciono anche quegli utensili, l'ho cucinato per Vigo, così non so come descriverle, poi questa parte qua è nuova, non c'è da tantissimo tempo, e c'è un po' di tutto, visto che sono uscita dopo, si vede che mi sono lanciata, nel riprendere le pancherelle, proprio molto, più in modo ravvicinato, qui non c'era niente di particolarmente affascinante per me, quindi non ho fatto delle gran riprese da vicino, per quel motivo, e poi, visto che ci verrò tante altre domeniche, non voglio svelarti subito tutto, ti farò vedere un assaggio dopo assaggio di quello che puoi trovare, così è più bello, poi io adoro anche le scatole di latta, quindi spesso lo vedrai inquadrato scatole di latta, ah, questo mi ha tirato troppo l'attenzione, io l'ho visto quando ero piccola, mio nonno lavorava al cinema, questo è un proiettore di una volta, dove, macchinista, facevo il macchinista al cinema, io infatti andavo al cinema gratis perché mio nonno proiettava i film nel piccolo cinema di Lendinara, e sono stata spesso a vedere lui che proiettava il film, era troppo bello, comunque, poi dopo qui avevo, ho ripreso questa cassa dei negozi di una volta, battitore di cassa, come si chiama, vabbè, comunque, qua non so cosa volevo farti vedere, degli attrezzi, non lo so, ah, qua c'erano tutti gli uccelli di plastica, non lo so, ho detto, ma cos'è tutta sta cosa, poi c'era una visarmonica gigante come quella di mio padre, molto bella, e qua c'erano dei richiami per uccelli, così, tipo, non lo so, era strano perché tante bancherelle, cioè, alcune bancherelle hanno delle cose affascinanti che però lo dici, ma cosa sono, altre sono, tipo, ok, va bene, tipo, tutto quel coso di uccelli di plastica, non so, cosa servissero, però, vabbè, forse qualcuno lo sa, beh, sicuramente quello della bancherella lo sa, comunque qua stavamo decidendo da che parte andare perché veramente è un labirinto, è stato mio padre che decide destra e sinistra perché tanto per me è uguale, basta guardare tutto, diciamo, eh sì, guarda quanta gente che c'è, eh, ma era proprio una bellissima giornata, quindi, cioè, veramente, top, poi c'è, sono anche i cagnonini che girano, dopo ne ho ripresi, anche i cagnonini che ho visto erano troppo bucci, qua macchine da scrivere, ovviamente, riprendo, perché mi piacciono, e poi dopo più avanti ho ripreso qualcosa che ha tirato la mia attenzione, ma non so dirti che cacchio sia, se me lo vuoi, se lo sai, scrivermi nei commenti, è quella a fare lì con una tv, non lo so, è anche quella di lato, cos'è? buco i tuoi cricci, acqua, vinili, 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 eccole, in quantità industriale, poi ci sono dei tv, poi altri vinili, però non mi ci sono neanche avvicinato perché sennò li compro, ah, poi, sì, no, non sempre, in realtà è difficile che trovo quelli che mi piacciono, però, dopo, qui ci sono delle carte da collezionabili, tipo pokemon, cose così, giochili della kinder, insomma, tutte cose da collezione, bellissime, una pataria, poi, i cagnolini, che continuavo a filmarli perché mi piacevano, tutti tranquilli, così, bravi a stare lì tra la folla, io penso anche a queste cose, quando passeggio, poi una signora che fa delle foto, non a me, per fortuna, poi c'è, qua stiamo decidendo da che parte andiamo, destra, sinistra, dritti, andiamo dritti, dai, ok, andiamo dritti, allora proverò a fare delle altre inquadrature un po' più ravvicinate, speriamo bene, eccomi qua, allora, questa baghella mi piaceva perché aveva messo le etichette, soprattutto mi piaceva quella pinza che continuavo a riprendere, era troppo buona, lo so, ecco l'ho anche indicata, c'era troppo bella, e, sì, poi mi piaceva che aveva messo le etichette spiegando che cosa fossero tutti gli oggetti, poi quella pinza c'era troppo bella, come fai a dire che, non lo so, mi attirava troppo, ce la volevo, anche se non sapevo, cioè non mi serviva, però la volevo, c'era troppo bella, sai quelle cose che ti attirano, poi qua non potevo non riprendere questa cosa troppo creepy, quel pinocchio, due pinocchia, super creepy, poi qui ci sono dei, quelle valigie lì che sembrano quelle di Totò, dei finicottini, non mi veniva, brava creatura, e quelle valigie lì che sembrano di cartoncino, quelle di Totò è presente, sì, poi ho ammirato questa graziella perché io me ne sto sistemando una vecchia e ho detto un bel libro, l'idea delle borse lì la voglio anche io, e sì, sto sistemando una vecchia graziella, così farò i giretti in pc, in pista ciclabile, vorrei fare anche lì attaccare la GoPro e fare qualche video ASMR, qua mi sono lanciata a un certo punto, ma sì, faccio una ripresa proprio, ovviamente, disarmonica, madre perla, devo filmarla, troppo bella, e qua ho detto, mi provo a lanciarmi dentro la pancherella, e allora ho fatto questa zoomata così, ovviamente è analogica la zoomata che ho allungato il braccio, sulle pipe, e poi c'erano anche degli anelli troppo belli, eccoli qua, guardali, sono fighissimi, poi queste stampe mi piacevano un sacco, la pancherella era di una signora, credo tedesca, comunque era straniera, e queste stampe qua erano bellissime, cioè, quando avrò una casa me le comprerò una, perché c'è da appendere, ma belle, adoro, 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 erano, credo tedesca, perché non erano italiane, cioè erano scritte, e mio padre ha detto che alcune erano di qualche scuola, però altre non lo so, comunque, vediamo poi qui che altro c'è, delle cose che mi curiosigono, che però non ho idea di cosa siano, se l'hai capito scrivilo nei commenti come al solito, i mercatini mi piacciono anche perché si trovano persone di tutti i tipi, puoi trovare l'anziano, il giovane, quello vestito strambo, l'ipster, qua mio padre che mi dice, guarda, c'è un mini penjoo, quello non ho ripreso tra le gambe della jet, poi qua c'erano tutte, ah, mi ha tirato l'attenzione questa cosa, questa specie di macchina mammut, non lo so, qua c'erano un sacco di modellini, di treni, di auto, perché chi colleziona sarebbe andato matto per questa bancherella, a me mi ha attirato l'attenzione perché era super colorata, sì, ok, qua cosa c'era? Ah, sì, questo microfono era fighissimo, ovviamente io cosa guardo i microfoni, fighissimo, bellissimo e me ne sono fregata anche se mi guardavano male tutti, io ho fatto, mi sono avvicinata e qui ho anche visto tutti questi, queste bottigliette che una volta andava di moda a collezionare, però ho rovinato tutto con la mia ombra, quindi andiamocene, non si vedeva finire, poi qua la mia attenzione è stata catturata da un casco giallo, giallo Kill Bill, che sono andata poi a fotografare, perché mi piaceva troppo, mio papà se l'ha provato, ma ero troppo piccolo, se no lo comprava, poi qui c'era un telefono di una volta, altri telefoni, altre cose, un altro battitore di cassa, dico di una volta i console, gameboy, videogiochi, bellini, una volta ne ha tantissimi, di tutti i tipi, è super bella, allora ero già lanciata qui nel massitemi butto, faccio delle belle riprese, delle belle zoomate, invece dopo la tizia mi ha rotto le palle, cioè qua c'era un carry on, bellissimo, qua ci sono le carte collezionabili, ne hanno un botto tantissime, qua c'è la tizia che mi diceva tipo, ma cosa cacchio stai a fare con quella cosa in mano, io no, no, stavo riprendendo solo i videogiochi, qua i giochi, però stavo bleffando, perché in realtà non so cosa, cioè in quel momento non stavo capendo cosa stavo filmando, però ho fatto finta di non averli ripresi, in realtà li ho ripresi, ma non lo sapranno mai, qui sto riprendendo tutti i giochi che sono sotto al tavolo per l'imbarazzo, fingendo che sia tutto ok, sono solo gli unici che mi hanno chiesto qualcosa e per il resto mi hanno lasciato già tutti libera di filmare, fare quello che volevo, tranne un tizio, una volta a un certo punto, mi ha chiesto se stavo facendo delle foto, io ho detto no, una videocamera, ma lui non aveva capito come funzionasse, però chissà, però non era della bancherella, quella lì è stata l'unica bancherella che un po' mi ha messo un po' di imbarazzo, ah qua ho trovato queste valigie piene di cacchapon, due palline a un euro, era la prima volta che lo vedevo, allora l'ho ripreso, c'era una valigia anche qui, aspetta che mi sposto, così vedi bene, eccola qua, c'è anche questa valigia qua, io ero un po' tentata di comprarla, ma poi ho detto ma sincia, poi mi piaceva questa cosa, sembrava troppo da il mistero di Sleepy Hollow, vero? Ok, poi qui cosa c'erano? Un po' dei videogiochi, degli orologi, cos'è che ha attirato mia attenzione, un'idea sinceramente, che ho dei videogiochi comunque, e poi c'è ovviamente il grammofono, scommetti che c'è un grammofono? Eccolo qui, il grammofono, ovviamente, cosa poteva esserci di interessante? E beh, ovvio, ma è fighissimo comunque, non puoi dire il contrario, qui c'erano altri giochi, poi sono rimasta indietro, ho accelerato il mio passo, però non potevo, e, ovviamente, sto cercando tra la folla, però dopo mi sono fermata qua, chissene, perché ho visto la massa chiudata, cioè, dopo, devo troppo rilmarla, è fighissima, qui c'erano anche dei fuggili antichi, del pistolo, delle armi vari, è fighissimo, ho detto, chissene, se sono rimasti indietro, devo riprendere le teste, e la macchina da scrivere, ovviamente, la poteva arrivi, io li adoro questi con le gocce di vetro, sono wow, poi qui, quest'altra ma anche la adoro, ha tutte le scatoline di latta, io me le comprirei tutte, ma dopo non so cosa farmi, è che mi piace guardarle, proprio, mi piace tantissimo, mi attirano tantissimo, dopo non so che cacchio metterci dentro, però sono stra belle, cioè io voglio una camera solo piena di scatole di latta, di questo tipo, poi c'era la macchina di Ghostbusters, guarda che vive, è bellissima, cioè, adoro, stupenda, questo aveva tanti giochi, proprio di una volta, fighissimi, se cercavamo di capire chi, che personaggio ci fosse all'interno della, cioè mia sorella lì, all'interno della macchina di Ghostbusters, ma non abbiamo capito, e poi abbiamo visto i mini dinosauri, ha questo servizio da tè giapponese, bellissimo, stupendo, guarda com'è fatto, bellissimo, adoro, poi i gramofoni, ovviamente, c'era, questa puntata di mercatini dell'usato, ecco a te, dimostreremo i gramofoni, oggi parliamo dei gramofoni, scatolina, non è di latta, ma è fighissima, può ovviamente, strumenti musicali, come se non ci fosse un domani, e anche corni e bamboline, creepy, ovviamente, c'è, c'è stata, ci sta, poi cosa c'era qua, pipe, ovviamente, pipe, e accendini, ma quelle non sono molto vite, e poi queste scatoline, non so di che materiale siano, però, ha, pisa armonica, ovviamente, qua mi sono restata sul retro della bancherella a filmare, non so perché, perché sono rebel, poi c'era quel casco lì che mi piaceva, poi c'era quell'animale lì, un po' creepy, perché è morto, però, non so che animale sia, però l'ho accaressato, era morbido, e poi c'erano altri giradischi e macchine da scrivere, poi c'era una maschera anticasca che aveva tirato un sacco la mia attenzione, ho cercato qua di farvi vedere di più, ma mio papà non si spostava, quindi niente, l'ho fatto così e basta, poi proprio in quadratura, ha le maschere, ha le maschere, c'è anche una maschera da coniglio stupendissima, poi qui c'erano i giochi, e abbiamo trovato un gioco che avevamo da piccoli, ovvero questo qui, non di quel colore, c'erano di un altro colore, non mi ricordo, non mi ricordo il nome, se puoi scrivermelo nei commenti se te lo ricordi, era troppo bello, io l'ho attorno, poi c'era anche un super nintendo, è un'altra cosa della barbie, non so che voleva mia sorella, poi qua venite, mio padre stava guardando cos'è musica italiana, no, cambiamo genere, andiamo a cercare un genere bello, vediamo, eccolo qui, heavy metal, black death, doom metal italiano, poi questo strumento musicale, non ho idea di come si chiami, però è fichissimo veramente accordarlo, deve essere una cosa, un'impresa epica, sì, poi c'era questo che non è un orologio, è solo un clown, molto utile, poi questo qui è un radar, lo voglio sul mio comodino, sì, credo sia un radar militare, lo voglio sul mio comodino, è troppo bello, e poi niente, si conclude ora il nostro viaggio in questo mercatino con questa garellata di teste, niente, spero che questo video ti abbia fatto rilassare, spero di aver parlato abbastanza in modo rilassante, o comunque di non averti agitato, ma di averti rilassato, non lo so, spero che ti sia piaciuto anche come ho descritto un po' quello che ho visto, e niente, ti ho lasciato una parte del ritorno, così potevo salutarti in modo più tranquillo, e vengo di goderti anche un po' il paesaggio, sì, quello che è come se avessimo viaggiato insieme in auto fino al mercatino, adesso torniamo a casa, in realtà tu adesso non torni a casa, tu tra poco chiuderai gli occhi e andrai a dormire, perché questo viaggio è servito per farti rilassare e farti entrare nel mondo dei sogni, così che potrai fare dei dolci sogni, e magari ripensare a tutte le cose che hai visto, e magari ti piace qualcosa, ti sfiri qualcosa di tutto ciò, e lo potrai sognare in modo molto molto calmo, per farti sentire bene e non farti pensare a nient'altro, guarda che bel paesaggio, tutto verde, alberi, erba, colli, vabbè c'è anche la strada e c'è anche delle macchine, però chi se ne tu concentrati su questo cielo, qua, no è privo di nuvole, in realtà quello è un riflesso del sole, c'è il sole, l'idea del cielo è super azzurro, non ci sono nuvole, quindi oh che bello, senti il tepore del sole attraverso il filestrino è così piacevole, vero? Wow, io adoro gli alberi, anche tu, guardate queste sfumature di verde, sono fantastiche, qui siamo a Montsilice, provincia di Padova, boschetto, com'è bello, è bellissimo questi alberi, ora siamo fermi al semaforo, ti mostro, eccolo, stai arrivando, stai andando verso il mondo dei sogni, schiudi gli occhi, buonanotte creatura, buonanotte creatura, buonanotte creatura, dormi bene, ciao creatura, ciao.